Detto ciò abbiamo un altro testimonial che invece ha vissuto un'esperienza in una realtà che si chiama ATM e anche lui è venuto a Milano dopo aver vinto il nostro premio ed è entrato a fare il suo stage in ATM dove oggi è invece in pianta stabile. Prego, Grimaldi. Buonasera a tutti, l'anno scorso sono stato uno dei vincitori della categoria energia e ambiente e i Lions mi hanno dato l'opportunità di poter arrivare a uno dei sogni a cui tutti noi giovani aspiriamo soprattutto in questo momento difficile. Tutto è partito tramite uno stage, mi sono trovato catapultato dall'università allora studiavo ancora, studio ancora tuttora, quindi mi sono ritrovato nel mondo del lavoro in una nuova città quindi ho avuto un po' di difficoltà all'inizio. Però poi tutto è andato per il verso giusto l'ATM che mi ha dato l'opportunità di ottenere questo stage, di avere lo stage mi ha saputo indirizzare verso attività in cui potevo dimostrare appieno il mio potenziale infatti adesso con questo contratto a tempo indeterminato che mi è stato offerto miro a seguire e gestire quelle che sono tutte le attività inerenti appunto alla gestione dei reflui provenienti dal lavaggio dei mezzi aziendali e tutte le operazioni di bonifica dell'amianto che sono comunque problematiche all'ordine del giorno. E niente, cosa dire, sono contento, ringrazio tutti non posso essere più felice. E niente, per i giovani un grande in bocca al lupo e rifacendomi alle lettere delle ragazze che ho visto che bene o male sono stati invitati tutti, cioè tutte persone della mia regione, anche io sono della Campania voglio dire una cosa, è vero che il futuro è da inventare però noi giovani abbiamo anche tutto un presente da scrivere. Grazie mille